La Madonna di Lourdes in pellegrinaggio per i 120 anni dell'Unitalsi, la sacrifigia all'Aquila da ieri nella Basilica di San Bernardino. L'Efigie di Maria in pellegrinaggio è una delle due usate nel santuario di Lourdes per la processione con la satua della Madonna. C'è anche una croce composta da 20 tasselli in pietra colorata che rappresentano le 20 sezioni regionali dell'Unitalsi e i 20 misteri del Rosario con l'obiettivo di riunire tutti i territori italiani che camminano con Maria e pregano per la pace con l'invito ai fedeli a venire in pellegrinaggio. Accanto alla Madonna c'è anche una teca per raccogliere le intenzioni di preghiera che chi desidera ha potuto lasciare. Una teca che sarà portata all'urde nel pellegrinaggio in programma dal 29 luglio al 3 agosto 2024. Tantissime le persone che tra ieri e oggi hanno visitato la Basilica, un'occasione bella e importante per la città e per i fedeli che ha voluto costituire una possibilità di preghiera comune, di riflessione personale per affidare a Maria gioie, dolore e speranze nel tempo di quaresima. La Madonna di Lourdes è veramente una calamita. Ieri la chiesa di San Berardino era piena, stracolma. La gente proprio sente qualcosa che elettrizza le persone perché la Madonna di Lourdes è veramente la presenza viva tra di noi della Madre di Cristo. Lourdes è un santuario straordinario. Quando si va a Lourdes non si rientra praticamente senza aver subito veramente uno shock spirituale perché la Madonna di Lourdes intercede per noi e la Madre. Noi non pensiamo Madre, mai che la Madonna sia vera Madre, è la vera Madre. La seconda Madre è quella naturale. Dovremmo spostare un pochino questo ambito.